Con una risoluzione dai toni freddi e burocratici presentata al vicepresidente Pence, i democratici lanciano un guanto di sfida ad alta intensità politica, chiedendo l'apertura della procedura di destituzione del presidente Trump, impeachment per chi mastica l'inglese. I repubblicani, come da copione, si oppongono alla procedura di rimozione presidenziale prevista dal venticinquesimo emendamento della Costituzione. E la seduta è aggiornata l'indomani. L'accusa che giustifica la procedura di destituzione è gravissima. Secondo i democratici, infatti, Trump sarebbe responsabile di stigazione all'insurrezione per l'assalto al Congresso, un atto simbolico dal momento che il presidente uscente lascerà comunque le chiavi sotto lo zerbino della Casa Bianca il 20 gennaio a Joe Biden.